Nel bollettino quotidiano relativo ai nuovi casi di covid registrati sul territorio marchigiano redatto dal Servizio Sanità della Regione Marche, emerge una nuova salita dei contagi anche nella provincia pesarese. Ad essere processati nelle ultime 24 ore sono stati 6.168 tamponi, 3.493 nel percorso Nuove Diagnosi, di cui 1.017 nello screening con percorso antigenico e 2.675 nel percorso Guariti, con un rapporto tra positivi e testati pari al 23,5%. I nuovi positivi nel percorso Nuove Diagnosi sono 820, 230 quelli segnalati in provincia di Pesaro Urbino. Nella serata di ieri invece sono stati resi noti i dati legati ai decessi a livello regionale, 12 le vittime segnalate e una di queste proveniva dal comune di Cantiano. Come annunciato dal governatore Francesco Acquaroli e dall'assessore alla Sanità regionale Filippo Saltamartini, nell'ultimo consiglio regionale incentrato sulla tematica sanitaria, la lotta al covid nelle Marche può contare su uno strumento in più, ovvero sugli anticorpi monoclonali. L'AIFA ha infatti approvato due progetti per Marche Nord e Torrette, consegnando 133 sacche per avviare le prime cure sui pazienti. L'infusione degli anticorpi, che viene effettuata nei primi giorni di riscontro della malattia per procederne quanto prima al blocco, ha preso il via dall'ospedale pesarese proprio nella giornata odierna. Come annunciato dall'assessore alla Sanità regionale Saltamartini, le prime infusioni hanno riguardato tre pazienti che hanno subito trapianti ai reni e per i quali, a causa delle patologie pregresse e delle terapie immunosoppressive, si potrebbe verificare un pericoloso aggravarsi della malattia e dei rischi legati al covid. C'era attesa inoltre per il pronunciamento del lema sulla sospensione del vaccino AstraZeneca. La comunicazione relativa alla sicurezza e l'efficacia del vaccino, arrivata nel pomeriggio odierno, permetterà la riorganizzazione sul territorio regionale della campagna vaccinale, per la quale l'assessore alla Sanità Saltamartini avrebbe dichiarato la ripresa già a partire da questo weekend. Come comunicato anche dall'Asur, anche oggi al centro Monaldi sono state sospese le nuove vaccinazioni. Tutte le prenotazioni saranno automaticamente rielaborate e la nuova data dell'appuntamento verrà comunicata dagli enti preposti ai diretti interessati.